La partita per lunghi tratti, anche prima di prendere il gol di Brighi, però d'altronde se noi creiamo le situazioni per poter farmare una squadra versare non lo facciamo. Il Torino ha dimostrato di conoscere meglio la categoria di noi, nel senso che sono stati più cinici e pratici in certe situazioni della gara. Sulle due vere palle gol che hanno avuto ci hanno fatto male. Noi, tante situazioni anche nel finale, negli ultimi 20-25 metri, non siamo stati bravi sia nell'assist e nel finalizzare le azioni che abbiamo creato. Sicuramente qua in Italia noi ci basiamo sempre sul risultato, per quello i giudizi vengono basati sul risultato, è inutile che parliamo, però devo dire che ho visto anche delle ottime cose. Come ho detto prima, noi siamo mancati, a differenza del Torino, fino a 80 metri bene, sotto tutti i punti di vista, non mi sono piaciuti nelle scelte finali perché noi lavoriamo tanto su questo e abbiamo osato poco. Invece in Serie A, specialmente contro certe squadre, quando c'è l'opportunità di farmare bisogna farmare, quello che ha fatto il Torino con noi.